Dai laboratori di ricerca alla terapia in corsia di ospedale corre veloce la nuova speranza per chi combatte il tumore del pancreas. È veronese la scoperta pubblicata il primo gennaio su Cancer Research, prestigiosa rivista scientifica internazionale, di come la malattia produca autotaxina, un enzima che rende le cellule tumorali resistenti alla chemioterapia. Il gruppo di ricerca dell'Università di Verona ha dimostrato che l'effetto può essere contrastato con la somministrazione di un farmaco inibitore un'arma in più contro uno dei tumori più aggressivi. Non è fortunatamente uno dei più frequenti ma è certamente ancora quello dove facciamo più difficoltà. In molti altri tumori solidi sono state sviluppate terapie importanti come l'immunoterapia, come i farmaci a bersaglio molecolare. Ecco il carcinoma del pancreas resta tra le pochissime neoplasie umane dove purtroppo abbiamo ancora solo la chemioterapia da offrire. Studi comunque questo che ci permettono di combinare dei farmaci a bersaglio molecolare con la chemioterapia sono ovviamente tesi a migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei nostri pazienti. La sperimentazione è già attiva su una ventina di pazienti. In questa fase la prima preoccupazione è quella della loro sicurezza ma i risultati già incoraggianti inducono a sperare che la terapia potrà essere somministrata ad un numero maggiore di persone. Un risultato frutto della raccolta diretta di dati ed evidenze nei pazienti curati in reparto. Diventano immediatamente delle sperimentazioni cliniche con dei tempi molto rapidi. Infatti l'inibitore selettivo che spegne questo segnale dell'autotaxina è già in attiva sperimentazione clinica insieme alla chemioterapia in pazienti con malattia del pancreas avanzata qui al Policlinico di Borgo Roma. A partecipare allo studio è stato un gruppo di lavoro di una ventina tra giovani medici e giovani biologi. Prova lampante dell'importanza della ricerca nella sfida costante alle malattie tumorali. Il grande vantaggio qui all'Università degli Studi di Verona è quello di avere dei laboratori di ricerca che sono in nostro caso largamente sostenuti da AIRC, dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ma anche avere un'estrema vicinanza con un centro totalmente dedicato alla ricerca clinica dove i nostri esperimenti sui topini possono diventare rapidissimamente delle nuove terapie direttamente al letto del paziente.